terremoto nel catanese nelle ultime ore tornata a tremare la terra nella provincia di catania questa mattina si è verificato una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 a milo alle ore 10.52 circa la scossa è stata rilevata dai sismografi dell'ingv ed è avvenuta ad una profondità di circa 3 chilometri quindi relativamente superficiale non si sono registrati da ne cose o persone